Salve amici del Centrometrio Italiano, instabilità che si va a concentrare sulle regioni meridionali. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 24 agosto. Sole prevalente al mattino al centro nord, con nuvolosità irregolare al sud e locali piogge su Molise, Puglia e Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e asciutto altrove con sole prevalente al centro nord. Inserate in nottata residui e piogge su Basilicata, Calabria e Sicilia ma in esaurimento e variabilità asciutta altrove. Temperature minime, massime e stazionarie o in lieve aumento soprattutto al centro nord. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.